Giornale Radio Nuova La chiesa maceratese e quella camerte prosegue il messaggio Non sono solo vicine territorialmente, ma grazie a Monsignor Brugnaro e a tutti i nostri sacerdoti, spesso veri amici tra loro, sono cresciute negli anni in una fraternità sempre più serena e collaborativa. Che l'esperienza della costante vicinanza del Signore vinca sempre in te ogni timore e ti accompagni con tutto il tuo amato popolo a ricostruire nel bene non solo le case di pietra, ma soprattutto i cuori, termina così il messaggio del Vescovo di Macerata, Marconi. Ed una delle tante difficoltà recate dal sisma investe nuovamente il mondo della scuola. Il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, ha scritto al premier Giuseppe Conte per chiedere la proroga degli organici docenti e personaleata per le scuole del cratere. Siamo preoccupati perché ormai i tempi stringono, spiega il presidente. Al momento sia nel mille proroga e sia nel decreto sul terremoto non è stato inserito nessun emendamento per mantenere gli organici degli istituti scolastici del cratere. La proroga di tali organici eviterebbe di mortificare la progettualità del dimensionamento scolastico nei comuni terremotati. In cui è in atto un processo di ripopolamento. Nel frattempo il ministro dell'istruzione Marco Bussetti ha firmato il decreto per la costituzione della task force per seguire l'avvio dell'anno scolastico nelle aree terremotate, come promesso durante la visita a De Sanatoglia. Si tratta di un gruppo di esperti guidato da Giovanna Boda, posto in ausilio degli uffici scolastici regionali dei territori colpiti dal sisma. Basta perdere tempo, lasciateci intervenire, vogliamo pulire l'ambiente. A scriverlo sugli striscioni sono i dipendenti della Orim di Piediripa che ieri, insieme al proprietario Alfredo Mancini, sono scesi in piazza della Libertà a Macerata per chiedere a gran voce la riepertura dell'azienda dopo l'incendio. I lavoratori denunciano la situazione di stallo in cui si è venuta a trovare la Orim, la cui attività è bloccata da 22 giorni. Nel mentre la provincia ha adottato un provvedimento finalizzato a consentire le sue operazioni di messa in sicurezza ad emergenza, riservandosi l'adozione di ogni ulteriore provvedimento da assumere nei modi e nelle sedi più opportune, una volta che il gestore avrà provveduto al ripristino delle condizioni di sicurezza richieste dal caso. E' morto sul colpo, incastrato nell'auto guidata dal fratello 19enne, un giovane svizzero di 27 anni in viaggio sull'Aqua 14. L'incidente si è verificato ieri tra i caselli di Ancona Sud e Nord, intorno alle 6.45. Di ritorno da Campobasso, il 19enne ha urtato un'autocisterna distruggendo la vettura sul lato passeggero dove si trovava il fratello. Alcuni automobilisti si sono fermati per aiutare la vittima, tra cui un camionista di Mogliano e una trentenne maceratese di origini albanesi. I due, nel mentre dei soccorsi, sono stati travolti da una 52enne di Civitanova a bordo della sua Citroen C2, non essendo riuscito a frenare per tempo. Il camionista è ricoverato in prognosi riservata al torrette di Ancona, mentre il maceratese ha riportato una frattura a una gamba. Sul posto si è alzata in volo anche l'eliambulanza, mentre altri feriti, tre in tutto, sono stati trasportati dalle ambulanze di Ancona e Camerano. I rilievi sono stati condotti dalla polizia stradale di Fano. È stato individuato e tratto in arresto l'autore dell'omicidio della 85enne Emma Grilli, uccisa nella sua casa di Via Verdi 19 a Chiaravalle il 17 luglio scorso. Si tratta di M.M., le sue iniziali, 57enne, vicino di casa della vittima, affetto da dipendenze da gioco. I carabinieri del reparto operativo nucleo investigativo di Ancona, ausiliati dai RIS di Roma, sono giunti al vicino di casa dell'anziana dopo attente analisi e serrati interrogatori. A scoprire il delitto era stato il marito a novantenne di Emma, Alfio Vichi, al ritorno da un giro in bicicletta per comperare il pane. Denunciato per tentata estorsione e lesioni personali, un 45enne di Villa Musone che da qualche tempo ricorreva alla madre di 70 anni per avere un aiuto in denaro. Richieste poi divenute sempre più pressanti, fino all'aggressione. Al culmine dell'ennesima lite, l'uomo avrebbe picchiato la madre e danneggiato gli interni della sua abitazione. A sentire i carabinieri di Recanati occupatisi del caso, le richieste dell'uomo non hanno a che fare con l'uso di droghe. Lo stato di salute di Claudio Pinti non è compatibile con la permanenza in carcere. È quanto riferiscono le analisi fatte sul presunto ontore dell'HIV, subito dopo l'arrivo alla casa circondariale di Montacuto a seguito dell'arresto del 12 giugno. I risultati sono stati comunicati alla tribunale di Ancona, che provvederà alla loro trasmissione al GIP per l'istanza di scarcerazione. Per il 36enne autotrasportatore di Monte Carotto, accusato di lesioni personali dolose gravissime e omicidio volontario in relazione alla morte della sua compagna, potrebbero essere disposti gli arresti domiciliari o in una struttura di cura adatta. Sono tutti salvi i tre passeggeri di un natante affondato a circa 600 metri dalla riva a Porto San Giorgio. Si tratta di tre persone, un uomo di 45 anni in compagnia di suo figlio di 10 e di suo nipote di 20, recuperati in buone condizioni di salute. Erano sulla barca alla fonda nei pressi del porto quando il natante ha iniziato ad imbarcare acqua e nel giro di poco tempo è affondato. I naufraghi si sono tuffati in acqua e a nuoto si sono diretti verso la riva, poi recuperati dagli assistenti bagnanti. Sul caso sono tuttora in corso le indagini da parte della Guardia Costiera di Porto San Giorgio. La zona dell'affondamento è monitorata e il relitto, che attualmente non costituisce un pericolo per la navigazione, sarà recuperato appena le condizioni del mare lo permetteranno. Tutta la parte del barco sul mare sarà gestita dal Cosmari e partirà il prossimo anno la campagna Cestini. A dare l'annuncio è il direttore del Cosmari, Giuseppe Giampaoli, nel corso di una conferenza stampa al municipio di Civitanova Marche. Si va dunque verso il potenziamento e il miglioramento delle criticità emerse nel servizio di igiene urbana, che dopo una prima fase di gestione mista, comune e cooperative, passa a quella del Cosmari. Stiamo monitorando in maniera capillare la situazione, ha detto il primo cittadino Fabrizio Ciarapica, e possiamo dire che rispetto allo scorso anno la situazione è molto migliorata. Ciarapica promette più vigilanza sulle situazioni di degrado e chiede la collaborazione dei cittadini invitandoli a segnalare disservizi o atti di inciviltà, chiamando i numeri 0733 77 3316 e 800 640 326. Potenziato il servizio di controllo con una pattuglia dei vigili e personale Cosmari, che gira per due giorni a settimana, i quali dal 1 gennaio a luglio 2018 hanno elevato 176 verbali. La Società regionale di Garanzia Marche è oggi il primo confidi regionale e uno dei principali nel panorama nazionale. È il risultato dell'aggregazione di tre dei più importanti confidi delle Marche, organismi che agevolano l'accesso bancario alle aziende. Dopo un confronto tra le organizzazioni di rappresentanza artigiane e industriali, la Società regionale di Garanzia Marche, ha incorporato Fidimpresa Marche e Cooperativa Artigiana di Garanzia Pierucci. Attraverso la fusione, SRGM detiene una quota di mercato poco inferiore al 70%, con 400 milioni di garanzie in corso, circa 40.000 imprese associate e una dotazione patrimoniale superiore ai limiti prescritti dalla normativa sulla vigilanza. Oltre a garantire un canale stabile e autorevole di accesso al credito, le imprese associate possono contare anche su un'ampia offerta di servizi come consulenze per accedere ai bandi pubblici. Rilascio di fideiussioni, pianificazione finanziaria degli investimenti e dei progetti di sviluppo. Sentiamo a questo proposito le parole di Luciano Goffi, direttore generale Società regionale di Garanzia Marche. Il confidi nasce intanto dalla unione di tre grandi confidi che già hanno una storia alle spalle molto lunga e che quindi sono abituati a interloquire e dialogare con le imprese che sono prevalentemente le micro e piccole imprese, piccole e medie imprese. Ecco, noi siamo una realtà che ha come obiettivo quello di facilitare e favorire l'accesso al credito. Ci stiamo dotando di strumenti capaci appunto di avvicinare il più velocemente possibile e dare risposte rapide agli imprenditori. Gli spettacoli Secondo fine settimana dedicato alla lirica allo sferisterio di Macerata. In programma le repliche delle opere in cartellone. Questa sera alle ore 21 torna in scena la traviata di Giuseppe Verdi nello splendido e inossidabile allestimento di Josef Svoboda. Domani è la volta del flauto magico di Mozart nella versione del regista Grambik, opera che tornerà a far parlare di sé per le sue incursioni nell'attualità. E ieri è stata la volta dell'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti, il servizio di Samuela Lautizzi. Una delizia per gli occhi e un balsamo per l'animo. È questo l'Elisir d'Amore firmato da Damiano Micheletto che ieri sera nella suggestiva location dello sferisterio per il Macerata Opera Festival ha letteralmente nuovamente incantato il vasto pubblico dei presenti. Un cornubio perfetto tra interpreti e musica che ha contribuito a rendere davvero moderna l'opera di Donizetti ed ha offerto agli spettatori uno spettacolo di grande forza espressiva e di rara bellezza, grazie anche alla vivacità dell'allestimento scenico. Lo sferisterio è diventato una vera e propria spiaggia nella quale prendono vita le vicende di Alina, Nemorino, Belcore e Dulcamara. Questa sera qui allo sferisterio l'Elisir d'Amore. Le è piaciuta? Tantissimo, tantissimo. Soprattutto Micheletto è una garanzia. Lo spirito dell'opera è rimasto intatto. Ha spostato l'emboca ma non c'è nulla di nessun problema. Devo dire che era un po' scettica all'inizio però mi ha veramente sorpreso e mi è piaciuto tantissimo. E poi accanto al regista devo dire che la musica e i cantanti sono stati veramente splendidi. Cosa hai apprezzato di più? Beh i cantanti soprattutto ma anche la parte recitata soprattutto dei cantanti la presenza scenica. Da 1 a 10 diamo un voto. Io darei anche 9. Il Fondo Unico per lo Spettacolo premia ancora una volta il Macerata Opera Festival. L'associazione Arena Sferisterio dopo la decurtazione subita nel 2015 per via dei criteri adottati dal Ministero continua a recuperare terreno su questo fronte e nel 2018 ottiene un aumento di circa 26.000 euro. Il finanziamento per l'anno in corso ammonta quindi a 835.968 euro rispetto agli 809.257 del 2017. Fra i 26 teatri di tradizione assegnatari di contributo FUS solo in 8 hanno ottenuto un incremento e quello per l'associazione Sferisterio è il quinto in assoluto. Nel complesso le assegnazioni del fondo premiano in toto la fondazione Rete Lirica delle Marche. Il dato del 2018 si attesta a 178.000 euro e rappresenta un aumento del 48,33% rispetto a quello del 2014 appena prima della formazione della Rete Lirica. È già sold out la data del 27 agosto dell'Enricomincio da me Unplugged il nuovo show di Enrico Brignano inserito nel ricco calendario di Sferisterio Live Macerata. La rassegna promossa dall'assessorato alla cultura del comune di Macerata in collaborazione con l'associazione Arena Sferisterio che anche per l'estate 2018 presenta un programma di grandi concerti e appuntamenti interessanti tanto da far volare la biglietteria che ogni giorno registra nuovi incrementi di vendita. Ed è per questo che è stata organizzata una seconda data il 28 agosto per permettere ai tanti fan di assistere allo spettacolo di uno dei più grandi comici italiani giunto ai 30 anni di carriera. I biglietti per assistere al nuovo spettacolo di Brignano saranno disponibili su ticketone.it a partire dalle ore 12 di lunedì 30 luglio e in tutti i punti vendita ticketone nelle prevendite autorizzate dalle ore 10 di giovedì 2 agosto. Il tempo nelle marche In chiusura uno sguardo alle previsioni di domani domenica 29 luglio sulle marche avremo un cielo prevalentemente sereno venti deboli dai quadranti settentrionali temperature mediamente stazionarie mare quasi calmo o poco mosso. Termina qui questa edizione del giornale radio che potete riascoltare sul nostro sito radionuova.com da parte di Marco Morosini in studio grazie per l'ascolto e buon proseguimento. Giornale Radio Nuova